La fiaba dei blocchi di Edinburgh Giunse notizia Lytil, re degli elfi di fantasia, che i bambini di Edinburgh avevano aiutato Elidor a soccorrere alcuni cerviatti nel bosco delle Betulle durante il grande freddo di Colta. Lytil ne fu grandemente compiaciuto e per mostrare la propria gratitudine inviò alcuni gnomini di Bretel ad Edinburgh per scoprire quali fossero i desideri dei bimbi. Ci piacerebbero i balocchi magici creati dal nanotelar per i bimbi delle terre del sole, dissero i bimbi in corpo. Fu così che i balocchi magici creati per i bimbi delle terre del sole sono diventati i celebri balocchi di Edinburgh.